Tutto su Mateus Castro da Silva? No, molto su Mateus Castro da Silva? Sì, la Fidelis ci prova ancora. Non ha mai smesso di provarci, vuole percorrere tutte le strade possibili per portare il capocadoniere dello scorso girone H di serie di Aldegui Livi. Dal Gravina, società con cui l'attaccante brasiliano ha realizzato 17 reti senza rigori, fanno sapere che il giocatore è contrattualizzato per un altro anno, motivo per cui sarà necessario versare un indennizzo ai Murgiani per strapparlo ad una concorrenza che in tutta Italia resta agguerritissima. Da Silva a meno l'attacco è il reparto che necessita di maggiori innesti. Ciro Danucci non ha fretta ed è contento sin qui dell'operato del DS Gianni Califano. Soddisfatto? Molto. Abbiamo preso dei giocatori molto funzionali a quello che è il mio modo di vedere il calcio. Il direttore è stato molto bravo. Ora dobbiamo naturalmente terminare la squadra, cercare di completarla laddove magari ci accorgiamo che possiamo migliorarla. L'unico reparto dove siamo ancora un po' accorti è davanti, dove il direttore sta lavorando per trovare e chiudere dei profili congeniali a quello che è il progetto Fidelissandria, quindi siamo tranquilli, c'è ancora tanto tempo. Fidelis ha lavoro dal lunedì scorso al Degli Olivi, dal lunedì prossimo invece i Biancazzurri si trasferiranno nel ritiro abruzzese di Montorio in provincia di Teramo. Le emozioni sono sempre tante quando si comincia, quando si comincia in un posto nuovo, in una società importante, in una piazza storica, blasonata, quindi le emozioni sono tante, anche il rispetto per questi colori, per questa maglia è tanto, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio. Fidelissimo di Ciro Danucci e Alex Serri, novità di spessore per il pacchetto retrato dell'Andria. Fin dall'anno scorso il Presidente mi aveva cercato, io ovviamente essendo un uomo di parola avevo già dato la mia parola a San Benedetto, quindi è dovuta traslare di un anno, ma il forte interesse che mi ha dimostrato sicuramente mi ha fatto sì di accettare questa proposta. In più ci aggiunge il fatto che magari il mister Danucci che ho avuto a Brindisi, il mio ex compagno Cancelli con cui ho affrontato mille battaglie, è stato uno stimolo ancora in più per accettare questa sfida. Serri sa come si vince il giorno H di Serie D, c'è riuscito con il Cerniona di Michele Pazienza, c'è riuscito anche con il Brindisi proprio allenato da Ciro Danucci, ci vuole riuscire pure con la Fidelis. Giochiamo per vincere, siamo molto propensi, vogliamo creare qualcosa di straordinario, come ho detto prima è difficile, non è impossibile e noi ce la proveremo fino alla fine, noi vogliamo anche noi vincere, però non è scontato e non è facile.